L'idea che abbiamo presentato questa sera è quella di far diventare la strada delle Calabria, dalla Campania a Reggio Calabria, un'infrastruttura monumentale dove per infrastruttura monumentale si intende una valorizzazione di questo percorso perché non solo possa attrarre molti turisti ma perché attraverso il suo aumento di qualità possa essere anche un luogo migliore per i cittadini e possa attrarre maggiori risorse. L'idea che abbiamo presentato questa sera è quella di far diventare tutta la strada delle Calabria, dalla Campania a Reggio Calabria, un'infrastruttura monumentale dove per infrastruttura monumentale si intende una valorizzazione di questo percorso perché non solo possa attrarre molti turisti ma perché attraverso il suo aumento di qualità possa essere anche un luogo migliore per i cittadini e possa attrarre maggiori risorse. Grazie 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 Grazie